Bene ritrovati gentili telespettatori, nuova edizione del telegiornale del Friuli Venezia Giulia. In apertura dobbiamo purtroppo parlare di cronaca e di quella famiglia sterminata, quella famiglia che abitava a Sacile, sterminata al confine tra l'Albania e la Macedonia, proprio in quel territorio dove ha confessato la figlia della coppia, sorella della bimba di 14 anni, trucidata anche lei, uccisa, proprio mentre si trovava con i genitori, la figlia Blerta ha confessato, aiutata da zio e da nipote. Sentiamo allora i servizi di apertura del nostro telegiornale. È stata la figlia maggiore, Blerta, pocesta a uccidere a colpi di pistola il padre Amit, 55enne, la madre Nazmie, 53, la sorrilla a Nila, di soli 14 anni, a De Bari, Macedonia, paese d'origine della famiglia che risiedeva a Cornadella di Sicile. La 28enne, dopo essere stata interrogata dal procuratore e sottoposta all'esame nel guanto di parafina, è stata arrestata per triplice omicidio, inchiodata da indizi e prove schiaccianti, davanti alle quali la giovane non ha potuto far altro che confessare, per poi svelare anche dove aveva nascosto l'arma usata per l'agghiacciante delitto, con tanto di finale da film dell'orrore. Con lei sono finiti in carcere anche Ferdi Gashi, 31enne, e Vipac Clobochista, 61enne, che l'hanno aiutata a commettere l'omicidio. Domenica, alla svolta, quando la notizia del fermo della figlia più grande della famiglia pocesta è rimbalzata dalla Macedonia in Italia, poche ore prima. Procura e Polizia Macedoni avevano ricevuto dai colleghi italiani il materiale rinvenuto e sequestrato nell'abitazione di Cornadella. Elementi significativi ai fini delle indagini, ha affermato il procuratore di Pordenone, Raffaele Tito. La conferma definitiva è arrivata poi nella tarda serata, quando il Ministero dell'Interno ha ratificato l'arresto della Polizia Macedone delle tre persone. Blerta pensava di aver depistato gli investigatori con i suoi pianti disperati. Aveva detto che la notte dell'omicidio si trovava in Italia, ma non è riuscita a mettere in atto il delitto perfetto. Dietro di sé, oltre a tre morti, ha infatti lasciato una lunga scia di indizi e prove che le hanno dato alle sue atroci responsabilità. Gli investigatori hanno scoperto che la 28enne, la notte del delitto, era a Debar. È stata la squadra mobile di Pordenone a ricostruire i movimenti della ragazza. Il dirigente, Brunella Marziani, e i suoi uomini hanno scoperto che Blerta era andata e tornata da Scofie in 24 ore. Il 25 agosto si è imbarcata alle 6.20 sul volo Venezia-Vienna, da dove ha raggiunto Scofie il 26 agosto. È rientrata con un volo Scofie-Belgrado-Venezia, dove è arrivata alle 20. Dai tabulati telefonici, la mobile ha scoperto che la prima telefonata è stata fatta a un macedone. Individuata all'utenza, attraverso il programma del Social Media Intelligence, che permette di studiare i profili online, ha trovato il 31enne che ha poi venduto a Blerta la pistola. Il suo screenshot è stato inviato alla polizia macedone, assieme ai fotogrammi in cui si vede Blerta all'aeroporto di Venezia, alla partenza e all'arrivo. Una grande indagine, quella portata avanti dagli uomini dal questore di Pordenone Marco Odorisio. A far premere il grilletto a Blerta sarebbero stati i soldi. Ovvero, dietro al terribile triplice omicidio, ci sarebbe un movimento prettamente economico. La 28enne avrebbe infatti fatto stipulare a tutta la sua famiglia in Italia una assicurazione sulla vita per una cifra intorno al milione e mezzo di euro. Un contratto dietro al quale si cederebbe movente dell'atroce delitto. Tra le ipotesi al vaglio della procura macedone c'era anche quella di una relazione amorosa non gradita ai genitori, ma questa strada sembra aver perso consistenza. Una studentessa modello ai tempi delle superiori, frequentata con profilo all'Isis Marchesini di Sacile, una giovane donna che sognava la carriera nel mondo del lavoro subito dopo la maturità. Superata con un voto superiore al 90, Blerta si è diplomata in ragionaria nel 2010 e nel suo percorso scolastico ha ottenuto anche una menzione dai giovani industriali di Pordenone per un progetto sull'azienda del domani. Il suo carattere, secondo le persone che la conoscono meglio, nasconderebbe però una fragilità di fondo che spesso l'ha portata a cedere all'ansia, all'insicurezza, ma anche all'ira. La ventotenne lavorava come segretaria alla Fornox di Francenigo, frazione di Gaglierine. I colleghi sono rimasti atterriti. Ancora cronaca, andiamo a Trieste. Ha tamponato un'auto in sosta, in preda ai fumi dell'alcol, è accaduto in pieno giorno. Una Citroen Saxo, mentre percorreva via Coroneo in direzione via Valerio, giuta in via Fabio Severo, ha sbandato improvvisamente a destra, centrando una Ford Fiesta in sosta. Gli operatori della polizia locale sono arrivati subito. Si sono accorti che la conducente della Citroen barcollava leggermente, sintomo quasi sempre di ebrezza alcolica, ma nulla poteva far sospettare, vista anche l'ora, la presenza di un tasso alcolico così elevato. La donna, identificata in 62enne, è stata sottoposta per due volte alla prova dell'etilometro, come prevede la legge, registrando un tasso alcolico di 3,25 grammi litro prima e 3,15, poi 6 volt, insomma, il minimo consentito. Andiamo a Gemona, bloccata in quota con i sandali ai piedi. Una 19enne è stata salvata nel corso della notte. Si è concluso intorno alle 2 di notte l'intervento di recupero della 19enne turista originaria del Lussemburgo, che aveva chiesto aiuto mentre si trovava bloccata sul monte Chiampon a Gemona del Friuli. La giovane si era trovata in difficoltà a causa del buio e del temporale. Non disponeva di attrezzatura adeguata per trascorrere la notte alla ghiaccio. Ai piedi calzava dei sandali. I tecnici del soccorso alpino e sperologico di Udine l'hanno raggiunta verso le 22.30 di notte, dopo averla localizzata a quota 1.670 metri, con un SMS Locator sulla cresta percorsa dall'alta via Cai di Gemona, nei pressi della cima del monte Faette, e hanno iniziato con lei la discesa che si è conclusa con l'arrivo intorno all'1.10 a Malga-Quarnan. È stato nel frattempo deciso di inviare altri due tecnici in quota per portare un paio di calzature più adeguate. alla discesa in sicurezza. I tecnici Xans, 11 quelli impiegati nell'intervento, 6 in quota, più i soccorritori della Guardia di Finanza in appoggio in base, hanno compiuto circa 600 metri di dislivello con le torce frontali. La ragazza, riporta il Xansa, si trovava in Italia per compiere percorsi di trekking. Dalle 5 terre era giunta in treno a Gemona e attraverso Forcella Sant'Agnese e Forcella Ledis era arrivata a Casera Scri, dove aveva dormito sulla propria amaca legata tra due alberi. Voleva raggiungere Malga-Quarnan, ma trovandosi in difficoltà sul sentiero lipido, ha proseguito sull'alta via Cai di Gemona, dove ha poi deciso di fermarsi per chiedere aiuto. Hanno preso il via i test di ingresso e medicina, odontoiatria e servizio sociale per migliaia di aspiranti matricola in Friuli-Venezia-Giulia, molto spesso il doppio dei posti a disposizione. Sono oltre 5.000 in tutto il Friuli-Venezia-Giulia, i candidati che si sono presentati ai vari corsi a numero chiuso, alla Università di Udine 570 per 122 posti disponibili e altri 760 per 153 posti all'Ateneo di Trieste. Penne alla mano hanno dovuto affrontare una settantina di domande e risposta multipla definite dal Ministero. Tempo per rispondere e consegnare 100 minuti. Anche quest'anno un esercito di ragazzi e ragazze, ma la selezione è quella che mette il maggior numero di vittime. Per questo motivo molti hanno deciso di provare anche test paralleli relativi ad altri corsi di laurea, fini come fisioterapia, 300 candidati per 31 posti disponibili a Udine e 238 per 26 posti a Trieste, oppure infermieristica con 200 per 100 posti a Trieste e 280 per 136 posti tra Udine e Pordenone. In questo caso i test ingresso si svolgeranno però il prossimo 12 settembre. Intanto torniamo in provincia di Pordenone a Cordovado, parliamo di difficoltà dei giovani italiani che si trovano all'estero. Lauro Nicodemo è andato proprio a Cordovado. Sentiamo. Siamo con il Presidente delle Fasce, Michele Bernardone, qui a Cordovado a questo incontro artistico-culturale legato un po' alla emigrazione. C'è un dato, la nuova emigrazione, che si parla ormai di centinaia e migliaia di giovani italiani che vanno all'estero, manca una copertura del Ministero degli Esteri, una copertura che il Governo dava in qualche modo al termine soprattutto della Grande Guerra. Oggi abbiamo l'Italia assente nella emigrazione. e sembra che il Ministero degli Esteri sia impegnato in tutt'altre faccende. Sembra che non si sia accorto di questo grande movimento, cosa che invece si accorgono i comuni quando vanno ai referendum, come nel vicino portoguarese per il passaggio da una regione all'altra, che vengono conteggiati coloro che sono iscritti all'anagrafe AIRE. Sì, in effetti mettere insieme i due fenomeni è un po' difficile. Diciamo subito una cosa, il rischio quando si parla di emigrazione è come quando si parla dell'epopea degli Alpini, di si volare nei luoghi comuni. Parlo di emigrazione storica, un'emigrazione di bisogni molto ben marcati, aree geografiche, parlo del Friuli, dove in diversi periodi, alla fine dell'Ottocento, dopo la Prima Guerra Mondiale, dopo la Seconda Guerra Mondiale, paesi che si sono spopolati. Forse nel secondo dopoguerra c'è stato il governo che ha seguito l'emigrazione con i patti bilaterali che accennava la amica Luigi Papais. Ma prima di quel periodo lì, tutti i giovani andavano allo sbaraglio, con condizioni di conoscenza. C'è stato anche il periodo degli anni 20 che avevano cercato di bloccarla. No, hanno bloccato la Golden Door nel 24, hanno bloccato noi da circa 200-300 mila all'anno, siamo passati a 4 mila. Entravano clandestini per il Canada, mio padre, nel 1927, per raggiungere gli Stati Uniti, dove una dita del mio paese, che a Vassanovo lo aspettava per fare il terrafiero, ha dovuto entrare per il Canada e poi con un passere andare a Filadelfia. I giovani non vanno in blocco in certe aree, non formano delle enclave friulane come poteva essere Buenos Aires o Toronto, vanno alla spicciolata e hanno una mobilità tale che sono fuori controllo. Noi come associazione cerchiamo di tenere i contatti con loro, abbiamo creato anche un social network, abbiamo dato un nome, eccellenze pordenonesi nel mondo, per poter tenere una rete di collegamenti. Li contattiamo a Londra, dopo sei mesi, riparlo con loro, sono andati a Hong Kong, piuttosto che in un altro posto. Quindi la caratteristica di questa nuova emigrazione è la grande mobilità. E parlo sempre della parte quella più apparissente, perché poi c'è quella parte che è per lo più sconosciuta, che vanno alla spicciolata e finiscono a fare i camerieri, a fare i lavori umili, quello che i locali si rifiutano di fare e che i nostri stessi giovani qui non lo fanno qui, ma in attesa di tempi migliori lo fanno all'estero. Per cui io ho sempre una riserva nel catalogare l'emigrazione dentro delle scatole. La società liquida è arrivata anche all'emigrazione. I giovani adesso partono, ma ci sono gruppi numerosi che stanno volentieri insieme. Abbiamo un club, uno dei più numerosi a Londra, che sono più di 35 giovani del Pordenonese, iscritti con cui siamo in contatto e continuo. Ma li perdiamo per strada alcuni. Possiamo allora dire, al di là che a lei non piace il termine della valigia, che la valigia elettronica forse è l'unica che riesce a intercettarli, perché poi sono grandi ricercatori all'interno delle università. Li intercettiamo con l'internet, sicuramente. Noi abbiamo un sito attraverso le conoscenze personali dei vari componenti dell'associazione, ma loro stessi entrano nel sito e vedono che c'è un'associazione di Pordenone che si occupa degli emigranti. e si iscrivono. Ma troviamo iscrizioni di un giovane che è andato a Tokyo e si iscrive. Ma lui è solo. Non possiamo dire che abbiamo fatto un segretariato, noi li chiamiamo segretariati, le nostre associazioni. Sono uno o due persone, oppure dipendenti di ditte, diciamo, locali, che può essere la Danussi stessa, o una delle grosse ditte, la Danieli. Anche la Cimolai. La Cimolai, sì, ma quelli che hanno lì cantieri si trovano ad avere anche delle maestranze che partono di qui. Quelli non sono emigranti, perché proprio la legge non li esclude. La legge che regola i rapporti con i corregionali all'estero, che dà le sovvenzioni all'associazione, stabilisce che non possono essere considerati emigranti. i dipendenti del Ministero che prendono stipendio qui e i dipendenti delle ditte che hanno i cantieri all'estero. Quelli non sono emigranti. Adesso ci faremo qui con il nostro telegiornale del Friuli Venezia Giulia. Vi ringrazio per aver scelto, come sempre, la nostra informazione. Ci diamo appuntamento anche su Facebook e YouTube di Media24. Grazie a voi tutti. Buon proseguimento con i programmi della rete. A risentirci. Alla prossima!